La Rishow e l'aeroporto di Preturo nell'ultimo weekend, come la stracittadina in centro, hanno dato inizio al ricco cartellone di eventi estivi, tantissimi appuntamenti che iniziano a giugno. Si parte con la Notte Bianca, giovedì 1 giugno, infatti, iniziativa che ha avuto molto successo da quando è stata rimessa in campo e che vedrà molti ospiti, soprattutto per i giovani, come Rudy Zerbi da Amici o come il ballerino Joy di Stefano, salita alla ribalta delle cronache per i balli di gruppo che inventa con le hit del momento. Nel mese di giugno il Comune ha deciso di replicare con i venerdì in centro, appuntamento pensato più per le famiglie con giochi nel centro storico e spettacoli per i più piccoli e i genitori. Diciamo che si tratta di un'anteprima in attesa dei cantieri dell'immaginario e della perdonanza per arrivare sino al Jets a settembre. La Notte Bianca vedrà negozi aperti e nelle vie del centro vari eventi per giovani e meno giovani. I venerdì in centro si terranno il 9, 16, 23 e 30 giugno, occasione per dare anche un sostegno alle attività commerciali e incentivare lo shopping. Il Comune insomma mira a proporre eventi ludici, spettacoli, eventi sportivi, fitness ad Aquilani e turisti nella fascia che va dalle 18 alle 20 ai momenti di intrattenimento musicale dalle 21 alle 23. Per la Notte Bianca si potrà far festa sino alle 2. Ovviamente per questi eventi cambierà la viabilità cittadina perché sostanzialmente il centro verrà chiuso alle auto per consentire l'organizzazione con l'invito a usare il terminal. Non si tratta degli unici eventi perché dal 21 giugno per una settimana il Comune è impegnato con l'Ateneo nel Festival delle Città Medievali che vedrà eventi divulgativi sulla storia della città. Manca una divulgazione più popolare con rievocazione degli antichi mestieri giochi, il tutto concentrato nel villaggio che sarà allestito al Parco del Castello.